I Cavaliari di Gran Croce scendono in campo a favore dell'occupabilità giovanile nel Lazio. È stato firmato infatti un protocollo tra l'assessorata lavoro e formazione della Regione e l'Associazione, finalizzato alla promozione di interventi nel settore dell'occupazione dei giovani e nella transizione dalla scuola al mondo del lavoro. Il progetto rientra nell'ambito della Settimana dei Giovani Lavoratori del Lazio, lanciata dalla Presidente Polverini, e porterà 100 giovani laureati della Regione ad effettuare stage e tirocini in aziende nazionali e internazionali come Finmeccanica, Toyota, Alitalia e molte altre. Tutte queste iniziative discendono dal lavoro formato giovani, il progetto della Regione Lazio per creare occupazione giovanile che incentiviamo con 100 milioni di euro. Questo progetto rientra in una settimana che abbiamo voluto dedicare al lavoro per i giovani, iniziata con gli alfieri del lavoro, a cui daremmo una borsa di studio di 20.000 euro, un investimento di un milione di euro per chi è detenuto e può lavorare contemporaneamente. Il 2 maggio abbiamo presentato le consulenze junior e oggi questi 100 tirocini per studenti meritevoli presso aziende prestigiose, non solo a livello nazionale ma a livello internazionale. Quindi selezioneremo questi 100 giovani laziali che avranno la possibilità di fare un tirocino e speriamo poi di essere assunti in maniera definitiva presso l'Alitalia, presso Finmeccanica, la Corte dei Conti, la Pfizer e chi più ne ha più ne metta. Ma questa è ancora una tappa perché noi domani porteremo in giunta una delibera per l'alta formazione e quindi tirocini per laureati che di fatto avranno delle borse di studio consistenti. Ci auguriamo che tutte queste iniziative abbiano il successo che meritano. Posso solo dire che le consulenze junior 2 milioni e mezzo che danno una dote di 15.000 euro per ogni professionista con meno di 35 anni ha avuto una richiesta in sola mezza mattinata ha avuto 30 richieste e sempre in una mezza mattinata ci sono stati 3.000 contatti al sito. Il segno è che quando le istituzioni quando l'assessorato a lavoro e formazione offre misure concrete la risposta e la richiesta è immediata. Tante iniziative ma i dati sulla disoccupazione giovanile nel Lazio e nel resto d'Italia continuano a crescere, sono dati allarmanti. Servono quindi misure drastiche per favorire l'entrata dei giovani nel mondo del lavoro. Certamente perché queste iniziative produrranno degli effetti nel prossimo anno. Nessuno però dice che a fianco di questa disoccupazione nel Lazio e nel nostro paese c'è un rovescio della medaglia che è quello dei posti che non vengono occupati. Basti pensare che solo nella nostra regione mancano 15.000 figure specializzate. Bisogna creare l'incontro fra domande e offerte e per questo noi ci stiamo attivando soprattutto sull'orientamento. Saremo la prima regione d'Italia con l'orientamento in 35 scuole medie. I ragazzi devono sapere che possono scegliere la scuola più idonea alle proprie caratteristiche ma anche quella che li farà avvicinare prima al mondo del lavoro. Così come la regione Lazio è in prima fila per promuovere il nuovo apprendistato. Ieri c'è stato un incontro fra il ministro Sacconi e le parti sociali ora la parola spetta alla regione Lazio insieme alle altre regioni ma noi siamo già stati forti propulsori dell'accordo che abbiamo siglato lo scorso anno. Noi stiamo facendo un progetto sperimentale con la delegazione romana dei Cavalieri di Gran Croce per inviare 100 ragazzi a fare dei stage cioè dei periodi di formazione e lavoro presso imprese nazionali e presso imprese estere. Tanto che abbiamo 60 ragazzi che andranno nelle imprese nazionali a fare questi periodi di formazione e 40 invece andranno all'estero negli Stati Uniti, a Singapore, in Turchia, Francia, Spagna, Israele e Canada e poi non so se me ne dimentico qualcuna. e questi stage sono molto importanti perché riescono a dare quel tipo di valore aggiunto ai ragazzi, specialmente quelli più meritevoli per avviarsi nei loro percorsi formativi e quindi nella loro attività lavorativa. Noi come Cavaliari di Gran Croce quindi persone che già hanno superato da molti anni la maggior età sono stati e sono vissuti un periodo più fortunato dove appena si finiva il ciclo formativo già si aveva la disponibilità di avere un lavoro. Quindi ci sentiamo responsabilizzati nei confronti dei nostri giovani e cerchiamo di aiutarli affinché specialmente quelli più meritevoli possono avere maggiori occasioni di lavoro.